Non sarebbe fantastico se potessi espandere il tuo allevamento? Avessi più denaro da investire? Avessi più informazioni e dati sull'andamento del tuo allevamento in modo da poter aumentare i profitti? Non sarebbe fantastico se potessi creare un allevamento finanziariamente solido e lasciarlo con serenità alla prossima generazione? La risposta sta nell'automazione e tu puoi averla. L'automazione ti permette di organizzare il tuo allevamento e le tue attività in modo più efficiente e, di conseguenza, di massimizzare i profitti. Ti dà un maggiore controllo dei numeri e più dati sull'allevamento. Ti permette di prendere decisioni mirate, fissare degli obiettivi e raggiungerli. Riduce lo stress della mandria, ne migliora la salute, aumenta la produzione di latte e assicura alle tue bacche una vita più lunga. L'automazione ottimizza il tuo tempo. Ciò significa che puoi migliorare la gestione della giornata e delle spese per aumentare i profitti dell'azienda. Ti permette di mantenere un'azienda finanziariamente solida, pronta per la prossima generazione e a prova di futuro, sia per il bestiame che per l'ambiente. La passione rimane, gli strumenti cambiano.